Sabato 6 luglio hanno preso il via i saldi estivi 2024. A dare i numeri degli sconti dell'estate per la Sicilia è Confcommercio, secondo cui saranno oltre 800.000 le famiglie che si dedicheranno allo shopping. La spesa media sarà circa di 160 euro a famiglia, 40 in meno rispetto all'anno precedente, per un giro di affari di circa 270 milioni di euro. Non le acquisterà con i saldi? Ma se sono buoni, perché no? Possiamo fare qualche spesa. Ma se i saldi sono sempre la metà e sempre sono cari, non conviene. Lei si è dato un budget? Sì, certo, un budget. E quando posso? Che ti posso dire? Un budget di 100-200 euro, quello che si può. Una roba di consumo, vestiti, questa roba cosa. Si aspettano i saldi, giustamente per risparmiare un po', è normale che sia così. Prudenza e oculatezza rimangono la parola d'ordine. In aiuto anche una norma introdotta nel 2023, l'articolo 17 bis del Codice del Consumo, che impone ai commercianti l'obbligo di indicare il prezzo più basso, applicato nei precedenti 30 giorni al prodotto e sconto, per smascherare e sanzionare i commercianti furbetti, che, poco prima dei saldi, alzano i prezzi per poi ribassarli repentinamente e far apparire percentuali di sconto falsate che invoglino maggiormente all'acquisto. Lei acquisterà con i saldi? Sicuramente. Si è dato un budget? Bah, un 100-150, super giù. C'è qualcosa che ha già puntato e tiene d'occhio oppure si lascerà ispirare da quello che trova sui banconi dei negozi? Quello che trovo sui banconi, sì, sì. Certo, un'idea di quello che dovrei comprare ce l'ho naturalmente. Io acquisto saldi o non saldi? Si è dato un budget? No, assolutamente no. Se posso e mi conviene, acquisto, altrimenti no. Hai acquistato quegli sconti? Sì, una maglietta. Aspetti gli sconti per poter fare acquisto? Assolutamente, non ho quel tipo di problema. Però se c'è la possibilità, perché no? Uno ne usufruisce. Attenzione anche a differenziare la merce sconto per l'estate 2024. Deve essere ben separata da quella a prezzo pieno. Inoltre, accade spesso che nei negozi vengano aggiunti tra la merce in saldo prodotti che non sono di fine stagione, ma che semplicemente sono rimanenze di magazzino. In questo caso lo scondo potrebbe non essere così conveniente. Sono iniziati i saldi giorno 6, come sta andando? Diciamo che si è iniziato già benissimo, anche perché da qualche giorno all'interno al cliente lo abbiamo anticipato. Quindi abbiamo il 20, non più, ma 30, 40, 50, soprattutto 40 e 50 su tanti articoli stagionali. C'è chi dice che durante i saldi non si acquista più come una volta, perché comunque le promozioni all'interno dei negozi si trovano tutto l'anno. Ma non a questi livelli. Cioè sì, ci può essere la promozione, ma non del 40 e del 50. Quindi poi chi apprezza l'articolo di qualità, giustamente adesso con questi saldi ne approfitta. Già qualcosa l'ho acquistata, a dire la verità. Chiaramente si cerca lo sconto migliore, perché è ovvio che poi devi andare a vedere anche il budget familiare, perché la cosa curiosa è che si cerca sempre lo sconto maggiore, quindi magari il 30, il 50. Quindi qualcosina già l'ho acquistata, però si spera e mi auguro che ci sia qualche sconticino maggiore per poter usufruirne e magari prendere qualcosa anche di bello, perché no?